La crisi morde, con i tempi che corrono c'è chi arriva a reinventarsi con la famiglia, la storia della propria vita, il tutto attraverso un nuovo lavoro. L'albergatore Vito Simone, 34enne pugliese in Romagna da tanti anni, oltre a gestire un hotel a Rimini, ha da poco aperto un'attività a Marina Centro. Vini e Panini è una scommessa per scacciare le difficoltà finanziarie, ma anche un modo per dare un'occupazione ai suoi cari. Mio suocero, mio cugino, che erano in cerca di una situazione diversa, avevano la passione della cucina, ci è venuto in mente di crearci un lavoro in un certo senso. Quindi abbiamo avviato questa paninoteca in stile Bacheri, dove facciamo dei panini farciti, che sono la vera alternativa a quella che è già l'ottima piedina romagnola. Nell'attività ognuno ha il suo ruolo definito, Vito Simone si occupa delle pubbliche relazioni, Arnaldo Gentile, il suocero 52enne, è l'intenditore di vini e si occupa della cura e farcitura dei panini. Sua figlia Gabriella, la compagna di Simone, è il contabile, il cugino 24enne Giovanni Munno, è il barista dell'attività. Il minese sta rispondendo abbastanza bene perché i prodotti che utilizziamo sono prodotti locali, che vengono comunque dall'Emilia Romagna, dalla Romagna, sia con i vini. Abbiamo delle cantine romagnole, che per quanto riguarda gli affettati, abbiamo la mortadella modenese, abbiamo il prosciutto di Parma, tutti prodotti di qualità che vengono avvolti attorno al pane e non intorno alla piedina. Al di là degli ingredienti, tutti rigorosamente del territorio, a far la differenza nell'attività di Viale Merigo Vespucci c'è la passione per i sapori e la qualità. Un pasto veloce, come un panino farcito oppure una merenda, grazie alla vasta gamma di muffin, possono essere un momento di relax. Vini o confetture esposte nel punto vendita diventano invece un souvenir perfetto per i turisti da riportare a casa, come ricordo di Rimini.